La maschera sul volto aiuta ad entrare nel mondo dei mammuzzones. È qualcosa di davvero magico che non è facile spiegare, perché bisogna provarlo per capirlo. Come ti metti la maschera sul volto, tu sparisci e ti trasformi. Il mondo appare attraverso le piccole fessure degli occhi e tu scopri che non è lo stesso che vedevi quando lo guardavi senza la maschera. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS